Una cosa di cui si parla tanto però è il decreto sicurezza bis che in settimana arriva in Senato. Lì ci sono solo tre voti, insomma la maggioranza ha solo tre voti. Ci sono dei dissidenti, dei 5 Stelle, pensa che possano avere un moto. Il provvedimento è pessimo. Si introduce tra l'altro il reato di salvataggio in mare. Vediamo se la spalla politica dell'uomo forte al comando batte un colpo. C'è il Movimento 5 Stelle, però mi pare ormai scivolare su tutto. Ho fatto l'altra volta una tabellina, una schedina per vedere. Non c'è una cosa che avevano detto in campagna elettorale che hanno mantenuto. Adesso hanno ceduto pure sull'autonomia differenziata. Pur di stare aggrappati a una poltrona si cede su tutto. Quindi ormai penso che passerà il decreto legge sicurezza bis. Il Movimento 5 Stelle garantirà i suoi voti. Ci sarà qualche dissidente, ci sarà qualche voto contrario, ci sarà qualche mal di pancia. Ma alla fine questo ruolo di spalla politica e di sgabbello politico vedo che piace molto a Luigi Di Mai.